Guarda che adesso lo filmo così. E non sta fermo? Vieni qui. Ma non so se è un litro. Perché? Eh, ma io non ci vedo tanto bene. Nutrizione forte. Ce ne eravamo come lo crudo immobile con gabbina e questi li ho ritrovati. E non ci vedo tanto bene. Noi. 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 Noi.